Pur avendo in alcuni casi una storia politica alle spalle, nessuno di loro ha attualmente incarichi istituzionali. Sono stati individuati nel mondo del lavoro e dei professionisti e nominati coordinatori provinciali del movimento politico barese CON, Alberto Pasqualone per Bari, Nini De Feudis per Labbat, Luca De Carlo per Lecce, Francesco Falcone per Taranto, Rosario Cusmai per Foggia e Angelo Malpignano per Brindisi. L'obiettivo è quello di integrare e qualificare la proposta politica, dando voce ai cittadini. Noi stiamo al centro della scena politica e vogliamo determinare la scena politica pugliese in questo modo. Siamo presenti in quasi tutti i comuni pugliesi con delle cariche istituzionali, ora dobbiamo mettere un movimento di contenuti per poi arrivare al consenso, ma la priorità di CON è il contenuto.